La provincia di Arezzo è entrata ufficialmente in fascia rossa che si traduce di fatto in una stretta sulle aperture delle attività commerciali oltre alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado. Da lunedì 15 marzo, infatti, la principale restrizione aggiuntiva riguarda la chiusura dei negozi, anche se molti potranno comunque restare aperti. Si potrà ad esempio andare nei supermercati, aperti anche distributori di benzina, librerie, panetterie, edicole, tabaccherie e cartolerie. Spazio pure per le attività ritenute indispensabili, tra queste i negozi di articoli sportivi, di intimo, di calzature per bambini, giocattoli e fiori, ed ovviamente anche farmacie e sanitarie. Chiusi invece barbieri, parrucchieri, centri estetici, negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, resteranno invece aperti per le consegne a domicilio, consentite senza limiti di orario e l'asporto, fino alle 18 senza restrizioni, fino alle 22 invece per chi ha un'attività con cucina. L'ingresso in zona rossa, infine, pieta tutti gli spostamenti anche all'interno del comune di residenza. È infatti consentito uscire di casa solo per motivi di salute, lavoro e necessità, motivazioni che devono essere indicate nell'ormai noto modulo di autocertificazione. Da oggi cambia che la provincia d'Arezzo è diventata zona rossa e quindi dobbiamo controllare che gli spostamenti siano dovuti per necessità previste dal DPCM, quindi muniti di autocertificazione è possibile fare tutto ciò che è consentito. Noi consigliamo sempre di evitare spostamenti inutili, quindi di attenersi a quanto previsto e in modo da collaborare i cittadini e le forze di polizia, in modo da aiutarci a vicenda, è il nostro auspicio. I controlli principalmente nelle zone di confine tra un comune e l'altro, controllate gli ingressi e l'uscita della città? Sì esatto, in questo punto possiamo controllare agevolmente i controlli in uscita dal comune e in entrata, in quanto sappiamo benissimo che gli spostamenti siano.